Carissimi amici di Santina, sono qui nell'ospedale dove abbiamo trovato Alima. Alima ha 25 anni, vicino c'è la sua mamma che si chiama Margare. Alima ha bisogno, come vedete, di dialisi e ha bisogno anche di sangue. Stiamo cercando una persona che ci ha venuto per 1.500 euro a dare dialisi e sangue. Alima è una mamma che dà un bambino che ha due anni e mezzo. Alima ha 25 anni e la sua mamma ne ha 44. Il bambino è piccolo e il padre è scappato e loro non hanno lavoro. È una situazione disperata e chiediamo di poterci aiutare. Aiutiamo questa ragazza proprio a sopravvivere o a vivere bene gli ultimi mesi della famiglia. C'è Esther che è la nostra infermiera e il grande dottor Carlos che ci darà la diagnosi di questa donna. È un progetto che parte in onore di Everly, si chiama Everly Programme 2021. Le vogliamo aiutare con 1.500 euro questa persona. Chi di voi è così generoso da mandare i soldi qui, in Kenya, dalle vostre tasche a questo letto per pagare a loro quello che sono la dialisi e il sangue? Per favore aiutateci. È il primo progetto. Se date 1.500 euro, io venirei da Rai in cambio 150.000 e avrete 100 pazienti da curare qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti.